musica fino ad oggi ho buttato tutto quello che sapevo su youtube ho fatto tutti i corsi e ho analizzato tre diverse versioni di cura ho detto che la mia preferita è la 15.4 non perché non ho voglia di aggiornarmi anzi ogni tanto scarico la versione semi nuova ma comunque riscontro delle problematiche ovvero io tutti i giorni devo lanciare gcode abbiamo una quindicina di stampanti e se per ogni file che faccio ho delle problematiche la giornata diventa molto lunga e non torno più a casa a mangiare di conseguenza devo prendere un programma veloce e snello ma soprattutto che non mi dia errori e problematiche nella generazione dei gcode questa è la versione consigliata e realizzo questi video proprio per metterli in evidenza in modo che tutte le persone che sono iscritte al mio canale sappiano da dove partire da dove partire e le possibilità che eventualmente ci saranno in un futuro può essere che facciano delle versioni perfette più nuove con più parametri ma per ora cominciamo e impariamo usare il 15.4 se non vuoi risparmiare tempo installalo scaricalo traducilo in italiano come ho fatto vedere in un video devi andare in una cartella nella directory e modificare la lingua una volta modificata la lingua operiamo oggi spiego l'altezza del livello quantificata in millimetri e può variare da 0,05 o 0,06 alcuni dicono fino a un 0.3 massimo 0.3 lo si usa con oggetti grossi o se vuoi risparmiare tempo e non hai piccoli particolari 0.2 una via di mezzo 0.25 anche e 0,15 e 0,1 0,1 usatelo solamente se ci sono cose piccole e lato esterno deve essere molto molto definito io uso spesso 0.2 vediamo com'è composto il mio oggetto la cosa numero uno che dovete capire è il motivo per cui dovete cambiare questo valore è la quantità degli strati che viene depositata se io lavoro a 0.1 i miei strati saranno molti di più ovviamente che lavorare a 0.3 precisamente un terzo apriamo la visualizzazione dei layer e qua vedete che questa è una piccola cornice clicchiamo sulla visualizzazione singolo livello e capiamo che la mia cornice è composta da cinque strati se io lavoro a 0.25 i miei strati diminuiranno sul lato non avremo conseguenze nel senso che lì anche se c'è una linea in meno linee sono più larghe non si nota perché è poco spesso questo oggetto vedete quindi nessuno andrà a vedere al lato ma le persone probabilmente andranno a vedere come è composto l'oggetto se è flessibile se non è flessibile se si spacca se non si spacca se le scritte escono bene e vediamo che spostandolo a 0.2.5 i miei livelli diventeranno 3 finiranno qua quindi da 5 a 3 e via via in questo caso io lavorerei a 0.2 lavorerei a 0.2 perché ho i miei tre strati iniziali è abbastanza flessibile questa è una cornice che deve essere un po morbida deve contenitiva oltre che per il corpo ovvero per tutta questa parte che vediamo piatta l'altezza del livello serve anche per far uscire bene le scritte in questo caso sempre visualizzazione dei livelli vediamo da quanti strati è composta la mia scritta sono dal numero 4 al numero 10 sono sei strati di scritta se lavorassi a 0.3 potrei per troppa distanza fra uno strato e l'altro e perdere la risoluzione della mia scritta se dovessi lavorare e volessi far uscire queste scritte migliori e non dovessi produrre velocemente lavorerei a 0.1 io ho stabilito 0.2 sia per un discorso estetico sia per un discorso di velocità di stampa tempo raddoppia 0.1 2 ore 15 0.2 1 ora e 15 risparmio un'ora l'altezza dei layer quindi serve a per far uscire più definito l'oggetto o meno definito e b a risparmiare tempo risparmiare tempo perché le stampe ve ne accorgerete occupano molte ore della giornata e se avete una o barra due stampanti ci impiegherete un po realizzare i vostri pezzi ho visto tante volte utilizzare 0.1 inutilmente e quindi ore della della stampante buttarle via per molti oggetti 0.2 è l'altezza del layer ideale questo parametro qua in tutti gli slicer è modificabile e è il parametro primo che vi trovate è da scegliere in base al rapporto qualità tempo che vorrete ottenere se questo corso ti è stato utile guarda anche il prossimo su cura 15.4.6 e avrai chiaro come realizzare i file qua non avrai troppi parametri in più e non ti confonderai alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti